Ancora un incidente in città. Questa mattina uno scuterista nisseno di 60 anni è stato investito in corso Vittorio Emanuele da un'auto, una Fiat Panda rossa, che secondo una prima ricostruzione lo ha urtato mentre stava risalendo in sella. Sul posto sono arrivati un equipaggio del 118 ai vigili urbani dell'antinfortunistica. L'uomo è stato trasportato in ospedale dove è stato curato dai medici che hanno riscontrato alcune ferite alle spalle e alla testa. La dinamica del sinistro è adesso al vaglio degli investigatori che hanno eseguito i rilievi. Subito dopo l'incidente gli agenti della Polizia Municipale hanno bloccato il traffico delle auto nella parte alta di corso Vittorio Emanuele, facendo deviare le vetture in via Berengario Gaetani.